Due vittorie su due, l'approccio giusto ad un torneo difficile. Autari soddisfatto sì dei tre punti ottenuti a Carrara al primo esame in trasferta dei Biancazzurri, meno tuttavia dell'atteggiamento. Ai suoi il tecnico siciliano chiede meno leziosità, più concretezza, maggiore incisività negli ultimi 16 metri. A centrocampo, aggiungiamo noi, serve più equilibrio, ma siamo solo agli inizi, conta soprattutto la sostanza. Sotto questo profilo c'è davvero poco o nulla da eccepire. Domenica prossima alle 17.30 la Bispesaro, l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Probabilmente Marco Chiarella sarà operato alla spalla destra, che dallo scorso anno sta procurando non pochi problemi al Baby Biancazzurro. Intervento programmato nel fine settimana. Se così fosse, lo stop sarebbe dai 60 ai 90 giorni. Bocic ha rimediato una lieve lesione muscolare all'altezza del fianco, figlia di un contrasto di gioco nella trasferta di Carrara. La gara del serbo è durata appena 11 minuti. Zita squalificato, Ianes da oggi in gruppo. Sarà ancora 3-4-3 con Rasi sostituto naturale del Belga, oppure 4-3-3 con Frascatore e Terzino Sinistro. Ianes nel cuore della difesa. Pompetti Metronomo, Rizzo e Memushai Mezziali staremo a vedere. Bispesaro priva del trequartista argentino Martin Tonzo, vittima di uno scontro durissimo all'ultimo respiro del match con Ponte d'Era, terminato 2-2. Per il calciatore sudamericano, rottura di naso e zigomo. Incredibile come il direttore di gara, Taricone, di Perugia, non abbia assegnato il penalty alla vis. Fuori tempo è pericoloso l'intervento del difensore toscano, pretato. Sembra scontato invece il recupero del centrocappista Mario Coppola, costretto ad abbandonare il proscenio al quinto minuto della ripresa per una scarpata accidentale alla testa. Nessuna lesione cerebrale, solo una ferita medicata con dei punti di sutura. Dalla squalifica rientra Gamazzi, difensore centrale e capitano della squadra marchigiana. Biancazzurri a caccia del terzo successo consecutivo. Non accade dalla stagione 2015-2016. Serie B, Oddo in panchina. Quel Pescara fu capace di vincerne addirittura sette di fila tra il 12 dicembre 2015 Pescara-Intella 2-0 e il 30 gennaio 2016 Pescara-Bari 3-1. Nel mezzo Lanciano-Pescara 1-2, Pescara-Modena 1-0, Latina-Pescara 0-1, Pescara-Livorno 2-1, Perugia-Pescara 0-4. Dalla stagione 1974-75, sette campionati di A, altrettanti di C e 34 di B, soltanto una volta il Delfino è riuscito a centrare l'unplaine nelle prime tre gare. Torneo 1991-92, Serie B, Pescara-Modena 3-1, Lucchese-Pescara 0-1, Pescara-Cesena 2-1, in rimonta nelle immagini, grazie alle reti di Max Allegri e Giacomo Ceredi. Era il Pescara di Giovanni Galeone, che poi avrebbe centrato la sua seconda promozione in Serie A con i Biancazzurri.